Casa Malipiero con i suoi spazi, con i suoi silenzi, con i suoi libri, con gli ecchi della presenza del maestro, ci accoglie anche oggi. Il Musigrama e il Festival Gioia e i musicali sono di nuovo qui per raccontare storie di musica in una casa che ne ha vissute tante e che ne ha incrociate tante con gli incontri di Malipiero e dei suoi amici compositori che venivano qui tra i silenzi asolani nel borgo di Asolo ad incontrarlo, a parlare di musica, a parlare di un mondo tanto lontano ma che qui possiamo quasi rivivere in queste atmosfere assolutamente ancora incantate. Atmosfere che purtroppo sono a nostro esclusivo appannaggio perché la casa-museo di Gianfrancesco Malipiero purtroppo è ancora chiusa al pubblico. Noi continuiamo ad ospitare degli amici proprio per far presente a chi di competenza, come si dice, che c'è la necessità di riaprire questo posto incantato. Oggi ci ha raggiunto un amico da piuttosto lontano perché Alexei Gili, l'ho detto correttamente, arriva da San Pietroburgo ed è qui perché è uno dei docenti delle master class di violoncello del Festival Gioie Musicali. Welcome to you! Abbiamo dei problemi con la lingua ma adesso ci stiamo, colpa mia che non so benissimo l'inglese ovviamente, ma ci arrangeremo e quindi chiedo, è la prima volta che vieni ad ASO? La prima domanda obbligatoria? Sì, qui è la prima volta in mia vita. Io ero in Italia un po' di volte, prima di Covid, ovviamente. L'ultimo po' di anni è stato difficile da raggiungere i paesi. E per me è una molto buona esperienza, perché dopo un tempo così terribile per i musicisti, abbiamo l'experienza di condividere tutto ciò che abbiamo, ciò che avevamo durante questi anni, per condividere con il pubblico, con i musicisti, con i studenti. Ovviamente, potrei insegnare in conservatorio in San Pietroburgo, dove sono un professore, ma anche mi mi piace, in questo internazionale contatto, per condividere diverse culture, diverse tradizioni di musicisti. Quindi, questo è molto importante, soprattutto dopo i Covid, quindi proviamo di dare, non come apotecchi, lezioni, ma proviamo di creare atmosfera con i studenti, di dare loro un sentimento che non sono come conservatorio, limitate lezioni, ma sempre diamiamo molto più tempo. Ci spieghiamo, discutiamo molti cose, ci spieghiamo molti domande, non solo sulle musica, ma sulle vita. E penso che è interessante, perché io ho studiato in Russia, e con il mio professore di conservatorio, potrei share con lui tutto ciò che è disturbato per me, e penso che è stata un'esperienza molto importante per me, quindi ora ho provato anche a fare la stessa cosa qui, con i miei studenti. qui, con i miei studenti, non ho visto molto, ma ovviamente è una fantastica vista, è una fantastica vista, viviamo in una buona villa, è una fantastica vista, le montagne, le belle tue, e una buona, una buona, una buona, una buona, una buona, anche una buona, anche una buona italiana, anche in Russia. e in Russia, non sono un grande fan della cusina russiana, ma ovviamente io cuoco, mi piace cuocere anche me stesso, ma questo stile italiano mi piace molto, e è molto vicino al mio cuore. Grazie, noi siamo molto felici di avere un ospite così prestigioso, perché cominciamo, ci ha detto delle cose bellissime sul suo metodo di insegnamento e sulle masterclass, ma cominciamo un po' a conoscerlo meglio, perché è ancora molto giovane, e quindi probabilmente il suo nome da solo può non dire moltissimo, ma io invito adesso a raccontarci di quali formazioni fa parte, e vedrete che sicuramente l'avrete già incontrato nei vostri ascolti. Tu sei un violoncellista, quindi di quale quartetto famosissimo? Grazie per la domanda! Quindi, ovviamente, vorrei parlare del mio quartetto, che è abbastanza pieno. Io ho giocato il David Ostrog quartetto, e abbiamo creato questo quartetto, non mi piacere, credo che già 10 anni fa. In realtà abbiamo avuto un jubile, magari l'ultimo anno, quando abbiamo ricevuto il nostro nome da la famiglia Ostrog. Sì, abbiamo creato il Sensible, è molto divertente, ma è tutto collegato con il mio quartetto e l'orchestra. Non ho mai spavuto in l'orchestra e non ho mai spavuto in quartetto. Quindi, il nostro violista, Fyodor B. Lugin, come un po' ha invitato a me e il mio amore Andrei Baranov, a Perme. Perme è una città in Euro, in Euro mountains, dove Theodor Kurentis, il greek conductor, crea una nuova orchestra. E Fyodor era responsabile di invitare le persone per creare una buona gruppa, una buona atmosfera in l'orchestra. Quindi, siamo arrivati qui, e siamo assolutamente chocati per la qualità che possiamo ottenere con questo conduttore. E siamo davvero in amore con lui. E abbiamo iniziato a giocare all'inizio all'inizio. Quindi, al principio, siamo arrivati qui a giocare l'orchestra. e magari un, due o tre mesi dopo, abbiamo deciso, ma perché, se siamo arrivati, perché non creare un quartetto? E abbiamo provato, e magari due o tre mesi abbiamo lavorato con un nuovo repertoire, con una nuova musica, e poi abbiamo chiesto Igr Oztrak, il figlio di Davido Oztrak, e abbiamo chiesto, non ho sperato, ma abbiamo chiesto, possiamo prendere il nome di Davido Oztrak per l'or quartetto? E lui ha detto, sì, ovviamente, no problemi. E poi abbiamo iniziato a lavorare molto più in un quartetto che in un'orchestra, e ora penso che è una più interessante parte della mia vita, e una più importante parte della mia vita, e tutto il resto. Quindi, ovviamente, io faccio solo, io insegno, ma il quartetto è la più importante parte della mia vita, e abbiamo fatto molti concerti, abbiamo lavorato con il quartetto in Colombo, negli Stati Uniti, in quasi ovunque in Europa, ovviamente, io visito tutte le russiche città, che non è così facile da visitare, perché Russia è molto grande, e magari devi volare 8-9 ore dentro di Russia, ma vi visito, non so, quasi ogni città, e mi piace, perché non è solo un gruppo, quando ti share la musica, ma è un franzo, tra le persone, che è molto importante, che si tratta di essere, tutti i seczioni, si tratta di essere un musicista, quindi, è un mix molto interessante, di chiamere musica e orchestra musica, se è possibile, perché per me è sempre che l'orchestra è il conduttore che dice che si gioca più sugermente, che si gioca più sugermente, che si hai bisogno di ascoltare a un bambino e bla bla bla, ma in nostro ensemble è davvero grande, vedete, non si dice l'orchestra, perché noi stiamo giocando tutti i nostri dettagli, quindi noi conosciamo tutti i voici, come dobbiamo giocare una piccola nota, anche se è molto corta e non è importante, possiamo dire, ma è importante, perché in questo momento dobbiamo dare attenzione a un bambino o al secondo violenza, e questo è un'interessante lavoro, perché credo che quasi nessuno in questo momento fa questo lavoro. la camera, è un lavoro precisissimo questo. io credo che tu capisci assolutamente le mie parole, sì, perché è assolutamente il lavoro di chamber musica, quello che facciamo con l'orchestra, e per me è stato molto più facile spostare l'orchestra e l'quartet, perché stiamo mixando tutto il tempo, e mi sono diventato a ascoltare più, che anche l'quartet. ovviamente l'quartet è molto difficile da spostare, perché sei solo, è solo per le persone, ma credo che è uno dei più difficili anni di spostare in musica. Ma, ovviamente, se spostare solo l'quartet, hai qualche limite di spostare, hai qualche limite di spostare, hai qualche limite di spostare nel cervello, è anche importante. in un'orchestra, hai qualche limite di spostare, e in un'orchestra, hai qualche limite di spostare, che credo che sia importante. Ma, prima di far parte di un quartetto, della musica da camera, dell'orchestra, Alexei ha suonato tanto da solo anche un altro strumento, perché c'è un pianista dietro al violoncellista, giusto? Come è avvenuto questo passaggio dal pianoforte al violoncello? Quindi, ovviamente, adesso devo tornare a mia figlia, per dire una storia di me, come ho cresciuto. Moi i miei amici erano musicisti, e mio padre finisce il conservatore come conduttore, anche come cantante, e mia madre anche lavorava come musica. come musicisti, come cantante. Quando ero 5 anni, mia madre mi mi portò a me alla scuola di musica, e io iniziato a learn musica. Ovviamente, quando ero molto più jove, io iniziò a cantare, 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 a cantare. Io avevo una buona professione. E dopo due anni di studiare piano, era l'ora di entrare la normale scuola, non pre-school, ma normale scuola, perché in Russia si è permesso di andare a scuola quando ero 7 anni. e mio professore mi ha consigliare a pensare a pensare a cello. Il suo figlio è finito con solo come cellist, e è stato molto felice, perché mi ha detto, e i miei professori mi ha detto, è molto più facile da trovare un lavoro per i miei bambini, come cello, come pianista. E, ovviamente, ora mi fai fai di questo, ma è vero, perché se guarda quanti pianisti oggi abbiamo, è vero. Quindi, ho cominciato a cantare cello quando ero 7 anni. E' una storia molto divertente, perché mia madre mi portò a una scuola speciale musica, che era non riuscita per loro in quel momento. E' una super scuola, quando tutti i musicisti sovieti stavano studiando. Quindi, era una super competizione, una straordinaria competizione. E non ho spaventato cello, e mi portarono. Non so perché, cosa succede. Potremmo l'ho impressionato tanto, o potremmo non c'era una grande competizione per cello questo anno. Non so. Per accedere a una carriera così fortunata come quella che Alexei sta compiendo adesso, i concorsi sono sicuramente molto importanti. Quali e come ha affrontato, soprattutto? No. Ok. Competizione. No. 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 la responsabilità per il risultato di quello che ho fatto perché prima, ok, io ho cercato di fare qualcosa di meglio e poi suddenly, quando ho 18 anni, ho detto, oh mamma, ma è me, non è la mia professione, non è la mia mamma è me che è responsabile per il risultato e ho ricordato, questo cambiò il mio cervello molto, e da l'ora ho cercato di dare il migliorio tutto il tempo che posso e per me, ovviamente, se volete a una competizione, è un po' speciale, un po' speciale modo di preparazione perché è un po' grande stress, è molto, molto più stress, che quando si gioca un concert e soprattutto, quando eu ho due, tre, quarte performanti in un po' corto tempo e mi hasero che preparato per 300% perché quando io avevo 14 anni, ho stato molto difficile per me studiare a popper e mi ricorda, perché non voleva andare a scendere, ero stavano, perché ero stavano molto bene to play this study and my mom said me ok if you don't want don't go and said no I have to I was shaken but my finger played everything so you have to be prepared so good that's even if your brain switched off you can play this is a way of preparation to competition yeah I don't speak about music because it's not about the music I think it's about the sport actually kind of yeah because it's a bit different and but it's absolutely different way of playing music of course in your like 25 years old of course you have to play not only notes very good but also music you have to be artist you're a good artist of course but when you're 13 years old you have maybe less difficult problems but of course you have to transform to change yourself you're to adapt for the reality which you never met before c'è questa profonda differenza tra il suonare in concerto e il suonare in concorso può piacere di più il concorso può piacere di più il concerto ma soprattutto danno dei feedback versi cioè il concerto devi imparare ad ascoltare il pubblico da persona che si fa ascoltare deve imparare ad ascoltare il pubblico il concorso da degli esiti immediati o quasi e per un artista che ha già concluso ormai la stagione dei concorsi che cosa rimane di quella competizione quando quando si fa musica no not now not anymore not anymore now actually I'm getting older of course and again when I was maybe 30 something I changed a bit my my feeling of the stage I started to enjoy the stage more than to try to do my best and actually I think if you can do it earlier it's better because every time you enjoy music actually give more because actually people on the audience always feel what you want to say and if you enjoy if you very clear you speak very clear from the stage and you know what you want to say it's much better and easier to understand and enjoy actually so this is also third aspect so interessante adesso dovremmo indagare questi spunti che Alexei ci ha dato e in Italia abbiamo detto si ci si sta bene felice di essere qui come sono gli studenti italiani che hai conosciuto in questi giorni? ah no you know this year it's absolutely I'm absolutely shocked actually because just a little I'm just go on the side a bit because this year also I went to Siberia to give master classes and I was shocked it was three four absolutely amazing students young 10-12 years old extremely talented and it's good parallel to here to the festival in Azalo because here also we have some absolutely crazy amazing talented children which I never even could expect to meet here like 10 years old like 10 years old we have I think Anna Cicchina I want to mention actually this because she's absolutely crazy talented girl and I really wish fantastic career for her because what she's doing now here and 10 years old it's absolutely amazing she's super fast she understands what you want to say and it's big talent actually and I don't want to say that all the rest is worse of course but she really amaze me very very much Ora è forte di queste esperienze e si affronta tutti noi stiamo affrontando delle nuove fasi nuovi concerti nuovi progetti quali sono i progetti di Alexei Giuliani? very good question very positive actually what I want to say like three four months ago I almost didn't have any projects in the future because everybody's so scared to plan anything because last year all the year we were planning this easy easy but then cancel 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 so then was like pause half year nobody planned anything and it's actually miracle that I'm here because till the very last moment I couldn't believe that I can manage to make prepare all the documents it's crazy now better not to say but I'm here and suddenly now I'm here and suddenly now I'm receiving almost every day some propositions for the future project for example actually in one week we have to start with music attorney in Salzburg festival Don Giovanni opera of Mozart and during this project with David Kostra quartet we have a concert in a very nice festival in Porto in Portugal also not easy to fly also not easy to fly I think I will manage yes then in the autumn we have many 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 interesting things we go with a trio to perform in in Holland in Concertgebou and not only like five six concerts also in Russia we have many 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 jubilates this year some orchestras so everybody invited to play it's interesting I also have interesting also proposition master classes for next year already and of course this quartet life and music eternal life it's quite busy more busy every year and year I hope it will happen so I cross my finger so and we hope that in your future programs there will be also to return to the festival musical festival and you will always be welcome and we would like to leave your impression on how you found this festival and on the people you met and on the music that you heard from us here in Asolo first of all I want to thank Elizabeth Tamaschio who I think is one of the most brave women in our time because she really was you know I called her two three months ago we spoke and suddenly I felt like she's absolutely sure it will happen so no doubts I said okay and I also started to believe and you know it happened it's happening now so it's it's very good 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 work she does because it's now time you know everybody is so hungry if I can see possible to say for the you know this activities festival festival things like concert life because it's here it's not only the lessons and the concerts and students live here with parents but they're all together they communicate together it's very important for them especially after this covid times when we didn't have anything actually everybody was stuck in the home watching tv and I don't know what they were doing everybody is eating but this is big kick actually to people to start it really go forward so this is very important and I wish all the best to the festival to grow and to bring more students to make more concerts and to become the most famous in Italy grazie ne lo speriamo ma anche se non saremo i più famosi in Italia vorremmo tanto di averti comunque presto con noi e magari chissà anche a suonare in questa magnifica casa di Gianfrancesco Malipiero che speriamo di poter riaprire tu intanto studi qualcosa di Gianfrancesco Malipiero e così possiamo possiamo meglio dare questo tributo anche magari con gli echi del suo amico che si chiamava Igor Stravinsky quello si lo conosci bene i wanted to add one thing about about music of because i felt so much actually that influence of Stravinsky in music of Malipiero so much grandi amici e Stravinsky è stato in questa casa a visitare Gianfrancesco Malipiero vedi che un po' di Russia torna sempre ma in realtà è una grande connexione ecco allora adesso abbiamo fatto questo gemellaggio e ci auguriamo di poterlo fare di nuovo con il nostro amico Alexei e di reverlo di nuovo qui grazie davvero di essere venuto a trovarci grazie grazie